Chi è il credente? È colui che si fida e si affida al Padre, in qualsiasi situazione si trovi. Anche oggi, come domenica scorsa, il Vangelo ci vuole aiutare a capire come non è importante quando si risponde alla chiamata di Cristo, ma che si risponda. Matteo, ovviamente con le parole di Gesù ci vuole aiutare a comprendere come l'importante è che la persona, in qualsiasi situazione bella o brutta di vita si trova a vivere, risponda a questa chiamata e che da quel momento cerchi di vivere e cerchi di affidarsi completamente a Cristo e a impostare la sua vita seguendo quelle che sono le sue indicazioni. Ciò che conta è che non giudichiamo chi ci sta vicino, chi viene a bussare alla porta della comunità, ma che anzi gli apriamo le porte, apriamo le porte al fratello e alla sorella che sono in difficoltà ma che ad esempio hanno scoperto questa chiamata di Cristo e li accogliamo. Anche perché poi magari potremmo scoprire che nel Regno di Cieli sono molto più vicini al Padre loro di chi invece li accoglie.